Ciao ragazzi, come sfondo vedete la mia tastiera del computer perché siamo pronte per estrarre la vincitrice giveaway chiuso e quindi possiamo partire ho scelto su Adeo, come potete notare tutte le pagine in alto, eccolo qui, mettiamo a fuoco quindi possiamo partire mi scuso se per caso sentirete dei rumori ma è mio figlio che gioca con il tablet allora, andiamo a mettere qui in alto dove c'è ID video andrò a mettere l'ID del mio video del giveaway quindi lo incollo di vincitrice ne lascio una sub action, non so se si legge così non ci metto nulla praticamente chiedono di scrivere il nome del mio canale se vuoi che l'estrazione venga fatta insomma, se sono anche iscritti al tuo canale ma tanto poi lo verificherò io una volta che il vincitore esce andrò a verificare le regole che io ho detto per vedere se la ragazza ha rispettato tutto banner, non bannerò nessuno perché verificherò io lo stesso dopo qui non cliccherò nulla perché voglio che Suadeo mi cerca le persone che hanno lasciato più commenti come avevo già specificato io varie volte nei video dove vi ho scritto più lascerete commenti ovviamente sensati più avrete la possibilità di essere sorteggiate premo start per l'invio del sorteggio buona fortuna oh, ha già fatto, è verde the winner is scendiamo, io salgo e non vi faccio vedere rasca CR perfetto allora rasca CR se ci sei contattami privatamente per darmi l'indirizzo e ti ricordo che hai tre giorni di tempo per potermi dare queste informazioni ti aspetto sul mio youtube privato quindi sull'email e ragazza, in bocca al lupo mi dispiace per tutte le altre però vi posso dare una piccola informazione una piccola news probabilmente presto, prestissimo no ma nelle vicinanze potrebbe esserci un altro giveaway magari in collaborazione non si sa un bacio ragazze ciao